ciao a tutti eccomi ancora qui volevo parlarvi del nostro usato sì perché noi trattiamo l'usato già tantissimi anni è un usato che garantiamo lo controlliamo comunque si lo garantiamo è un usato perfettamente funzionante molte volte abbiamo dell'usato irriconoscibile dal nuovo comunque l'usato che noi diamo è perfettamente funzionante ora vi illustro qualcosa la mia solita vetrina abbiamo poi comunque sia vetrine di nuovo una vetrina di antichità ma c'è qualcosa ecco qui per esempio qualcosa di usato che abbiamo usato veramente di alto livello abbiamo qui un 300 2,8 nikon in perfette condizioni un 300 f4 sempre di nikon abbiamo anche canon come potete vedere qui abbiamo una 5d mark 3 usata una 5d mark 2 un 24 70 2,8 prima serie qualcos'altro di nikon come di 800 qui parliamo di pezzi professionali e non sono tutti qua menzionati qui abbiamo anche un 35 1 e 4 nikon della serie n è tutto in perfette condizioni si magari la canon 5d mark 2 un pochino più usata come anche la di 800 che ha un po di scatti però gli obiettivi sono veramente perfetti qua dietro abbiamo un'altra vetrina di usato ovvero c'è un po di tutto da qualche mirrorless di fuji a macchine analogiche macchine un pochino meno importanti sia di nikon che di canon come la 7500 anchebulare